ciao ragazzi come va tutto bene video veloce video così lampo per farvi tanti 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 auguri di buona pasqua buoni giorni di festa speriamo che possano essere felici per tutti visto il periodo difficile che stiamo stiamo vivendo vi rubo ancora giusto qualche minuto veloce ragazzi per ringraziarvi di cuore ringraziarvi proprio tanto 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 perché ho visto proprio in questi giorni quindi pensate che bel regalo di pasqua che mi avete fatto che siamo arrivati a 50 iscritti e questa è una cosa per me fantastica sono sono senza parole ragazzi questo magnifico risultato è stato possibile solo grazie a voi quindi vi sono grato e ancora una volta vi ringrazio scusate il gioco di parole perché mi state dando fiducia perché continuate a seguirmi con interesse e anzi alcuni di voi commentano anche sotto i video quindi abbiamo l'opportunità di parlarci poi ringrazio tutti coloro che ogni tanto partecipano quando facciamo quando guardiamo i video insieme con la chat in diretta ed è una cosa pazzesca ragazzi sono contentissimo sono emozionato sono senza parole perché come vi ripeto non mi aspettavo un risultato del genere ringrazio quindi tutta la famiglia di infogheera youtube veramente ragazzi grazie mille di tutto e ancora tanti 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 auguri di buona pasqua e noi ci vediamo presto con nuovissimi video su infogheera youtube ciao ragazzi ciao